Grazie. 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 Szarulja. Ennyi ebbe a színt a ráttalát. Jó, majd behozom. A 16-os van a lány. Ez előtt előtt a gyereket. A felugrott és alá. Ja. Ez a méga első felülő? Szukra. 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 . Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non vedete Lui per la mia Devete! Fui! Voi? Voi? Voi. Vai! Voi? Non lo so Pfff! Che fai. Pfff! Che fai! Danciare! Pfff! 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 che ti non giociatevi? non è arrivati a l'abberia non 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 c'è l'esplosione. Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.